Ciao a tutti amici, siamo tornati sul mio canale, sono riuscito a fare il draft 190 con Cristiano Ronaldo, 98 appena uscito, Griezmann if, Bale, poi Toni Kroos if, Modric Todi, Hosil if, questo che non conosco e questo che non conosco, poi c'è Oblak Speciale 88, Godin if 91 e Bruno, una cagata c'è, Neymar Talks, Ibrahimovic Speciale 94, De Bruyne if, Lama if, poi questo qua stupido non so chi è, Alessandro if, questo brutto if, Lorenzi if, e Ico, guarda cagata if, no non è if, sta rimbambisco oggi, poi Danilo cagata, i due be merda, e questo ha pure il colore di DRA, poi, questa, 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 è Satana, Satana delle ciotole, che bella, è morta, andiamo al cimitero, ci vedremo tra poco con i pacchetti punti, ciao e il draft